Elementari come il moto di onda E' un po' violento Componenti misteriosi L'elettro show di Gigi D'Agostino Dal vivo Domani sera venerdì 24 febbraio 2006 Ore 21 Discoteca Carlo Vilazne Smetanovo Nabrezzi 198 Novozne Olavka Località Praga 1 Repubblica Ceca Ipnotico elettronico Ci gira intorno Ilno di Doppolo Cristo ac哦 tripsi croisati Grazie a tutti